La prima cosa è, perché ti stai agitando e poi ti prendi del tempo per rilassarti? Qual è il senso di agitarti e poi rilassarti? In quanto essere umano, siccome il corpo fisico ha certi limiti di ciò che può fare e non può fare, forse a volte hai bisogno di riposo. Ma perché pensi sia tempo morto? Fa parte della manutenzione per il prossimo piano di azione, ok? Quindi, questa faccenda del rilassarsi è diventata molto popolare. Tutti parlano di rilassarsi, disintossicarsi e quant'altro. Prima di tutto, perché sei così tossico? E poi vuoi disintossicare te stesso? Mangi in modo sbagliato, pensi in modo sbagliato, le tue emozioni sono sbagliate e ti sei intossicato. E ora vuoi disintossicarti. Ti agiti e poi vuoi rilassarti. Agitarti è un crimine. E rilassarti. Quanto tempo di energia ci vuole per rilassarti? E come ti rilassi? Lo so quali sono tutti i metodi per rilassarsi che le persone stanno usando. No, non devi agitarti né rilassarti. Ecco perché dico che il tuo scopo è importante. Perché se il tuo scopo è davvero ardente nel tuo cuore, l'attività non è gravosa. L'attività non sarà mai gravosa. Conoscerai la gioia dell'azione perché non è gravosa. È sempre. Stai cercando un'opportunità. Non stai cercando un'opportunità per riposare. Stai cercando un'opportunità per essere acceso. E quando uso la parola acceso, capiamo questo. Sei vivo. Ciò significa che sei acceso. Se spento significa, sai cosa significa? No, no, non vogliamo che questo accada subito. Quindi, la vita è stare accesi. Verrà un tempo in cui spegnersi. Poi non puoi riaccenderla. È finita. Quindi, quando è accesa, non pensare mai acceso e spento. È acceso, acceso e acceso. Perché la vita è stare accesi. Lasciate che vi ricordi. A tutti voi, a molti di voi che pensano quanto dovrei fare, quanto non dovrei fare. Vedi, queste domande sorgeranno solo se non hai uno scopo da portare a termine. Uno scopo che sia più grande di te. Se non ce l'hai nel cuore, allora sempre i calcoli di cosa dovrei fare, cosa non dovrei fare. C'è un detto in Cannada. Anche quando qualcuno è morto, quattro persone lo devono portare. Tra queste, tre porteranno il peso e un tipo farà solo finta di andare. Ok? Non darà davvero la spalla. Quindi, pensa di essere furbo. No, non è furbo. È stupido. Si sta perdendo l'intera esperienza della vita. Quindi, non esiste qualcosa come acceso e spento. Sei acceso. Quando sei esausto, comunque crollerai. E ti rialzerai quando ti sei rigenerato. Ok? Quindi, non pianificare tutti questi piani di rilassamento. Quando sei esausto o cadi morto, ti risvegli di nuovo. Ok? È così che dovrebbe essere la vita. No, non pianificare. No, non pianificare. No, non 지� av